Shining Stars Cubriendo i nostri obiettivi Con una foto Al risultato Grandi Role model E il progetto aiuterà E anche se avete trovato Nostra Nostra Star Questo è il tabanico Vieni 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 Poi Diciclo Diciclo Bambi Vieni Ficcio St. Paulus Che progetto Che significa Progetto Open E Show Respect Disciplina Comunicare Con E Voi 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 a me vai basket, ora che dopo la stoppa con béisbol, perché non ti ho stagio, ora che stagio acaba, ora cominciò a basket. Ok, come ti combina basket con béisbol? Un giorno, sei un giorno. Perché cosa è buona? È a me, è buona. Ok, ora che come basket, ho il progetto qui, è deporto basketman, è possibilità anche come ti, niengieria, non ti niente. Non ti niente di avere questo progetto qui. No, non, non. Non ti Bisak. Buon sì, il prezano tutto il suo cammino da tutto il suno, ma c'è tanto il suo cammino, le passketman, la béisbol sono il maggiol, però non mi béisbol può nevano quello, ma c'è tanto i bai balcon. Ok, e ora, come si è un positivo di progetto qui, Il risultato, il crescimento, il desarrollo personal. Che significa che? Ora non mi sapevo di andare a fare un'attività per andare a fare un'attività. Non mi sapevo di andare a fare un'attività. Ma penso un giorno che ci sia un'attività. Non, non mi sapevo di andare a fare un'attività. E se che parte di un desarrollo positivo di prometere il progetto con ava? Si. Ok. Come ho potuto fare un'attività, come 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 un'attività con l'organizzazione, ma non ho potuto fare un'attività ma non ho potuto fare 30 equips di base ed sport. Se non ho potuto fare anche 30 equips di base per l'uffassung di spazio? E se noi, non ho potuto con l'attività per andare a fare un'attività. anche. Dopo aver parlato con Shaquille, abbiamo parlato di scuola, anche noi stiamo in scuola, parlato di barrio, parlato di progetti, ma come maiore. Con il suo tratamento è la visione di Shaquille. Abbiamo parlato di Shaquille per mantenere i ragazzi che avessi aiuta un shining star di Ami e Mimessi mi lavorano. Buon venuto con noi. Grazie. Come ti guarda oggi? Grazie per l'opportunità. Ma guarda, Shaquille ha cambiato con il carattere, con il rispetto, con il rispetto, è più intelligente e ha più fiducia con il rispetto. È un rispetto che è responsabile, è complicato, è un rispetto che è molto importante per fare un lavoro e non ci rendere. E non ci rendere. È una cosa pratica e ci rendere. È un momento di farlo per la mercazione. È un momento è un modo che non sia un accordo con qualcosa. Non è importanza che ci sono un gruppo. Ci sono un momento in cui ci si pensi un po' di qua, ciò che non influi, a quello che noi stanno facendo. Quindi ci sono riuscire, al momento, in cui non investi. Ci sono un giro, quella che chiama la prima parte partecipa, e ci sono partecipati attivamente, perché mi ha avuto da qui la vola di un bambino, qui è un giro di un figlio, per un èngel, un leader qui ha avuto la scuola a noi. Seguro il lavoro, per esempio, il progresso. Tanto una scuola che si ha, come una squadra, la disciplina che si ha. Questo è un po' di tempo che non si vede a fare un treino, non si non si non si vede a fare un treino, è quello che mi piace dire. Non c'è un'escrizione. E' stato un comienzo di èxito? Correcto. In deporte, sicuro e anche di vita. Sì, sì. Ok. Questo è il nostro corso. Questo è il nostro corso. Questo è il nostro corso. Mi nome è Kevin Armes. Mi sono 17 anni di edad. Mi sono scuola di Acheoco Mancestrat. Mi sono futbolista. Mi sono i Bay Keeper. Mi sono un ragazzo. Mi sono 3 anni di progetto. Mi sono 4 anni. Mi sono scuola. Mi sono scuola di un progetto. Si può fare anche in A-I-B. Non sono 2, 3 anni. Mi sono scuola. E poi ho scuola di dare alla fine. Spesso. E poi ho scuola di responsabilità E' solo una cosa. E' solo un esforzo. E' solo un esforzo. Nonскую esforzo. E quindi, al final, ci sono scuola di un risultato. E' parte della disciplina? Questa è una disciplina? Questa è un progetto che vogliamo realizzare? Questa è una disciplina realizzata? La disciplina è una disciplina, ma non c'è. Qui è nata in Siammi, Sibono Pobini, Bel, che è arrivato a triompare, essere puntuali, non c'è una... Questa è una disciplina che è un coach local e internazionalmente conosci, per la sua esperienza. Come ti amera il coach, che è una cosa più importante della mia vita, del progetto qui, come può dire che è quello che è stato in siano di un coach? Non ho sentito mai a dire che è stato un progetto che è stato un progetto di Bambisa, eccetera, eccetera. E lei mi ha aiutato a dire che è stato un progetto 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 e mi ha sempre motivato, e mi ha fatto un progetto. E come un progetto? come un progetto con questo è stato un progetto. Come abbiamo invece un progetto che sia stato un progetto che è stato un progetto なorezza. Non prende così open che il fedito dice E' típica cosa, e se non hai freddo di bala, cosa hai freddo di bala? Si, hai freddo di bala, e freddo di bala, però qua qui... Qua qui ti ha affrontato? Se fu ora qua qui, poi mi sento in un'ampara. E poi, grazie a qua qui mi sono stati in tercera divisione di Corso. E per l'Unice, con il giusto di poter, mi trova un trio di Ado Donar. E la risulta è Shining Star di Fútbol. E' s'agitanificato che è un role model, la UPA è sobrana del fútbol, del proiecto. Che sei ti pensavo come maiore, come tata? Bom, UPA, satisfazione e orgulloso. Passò fuori di day one, fuori di Chiquica, a cominciare con la attività di fútbol. Non stava a UPA con me, come mamma e tata, stava a UPA con me motivando, e ultimamente la crescita non ti che mai, non ti che mai consente, ma motiva a UPA. è un potenziale che può salire e rappresentare tutto l'altro. E per me è sicuramente una cosa che mi sono orgogliosa, ma anche un'altra cosa che mi ha avuto, ma anche un'altra cosa che mi ha avuto, ma anche un'altra cosa che mi ha motivato, ma anche un'altra cosa. assinalevo. Cervo un futuro brillante su di lante. Cervo una sinacra, capta per farlo e farlo da una volta. Se volto un'altra meta, si volto un'altra. Cervo un'altra cosa che avrei a loro. Cervo un'altra cosa che da un'altra volta, non la metà. Per me metà, perché mi sono un buon cittadano e non ciò che per noi. Il nostro è sempre la prima metà, quindi di due è diventare un buon futbolista. Che ha avuto un futuro su di lante, sicuro, sicuro. Come keeper? Come keeper. Come keeper, sicuro, sicuro. Buon keeper, ma vai di fronte a tutti i nostri progetti, non? La parra è tremenda, è un attore negro, anche. Tremendo. Come keeper, che ha avuto un buon cammino, sicuro, sicuro. Io sono molto orgoglioso, personalmente sono molto orgoglioso, perché ho avuto un progetto, come ho avuto un progetto. Come ho avuto un giro. In principio non ho avuto un'altra, ma ho avuto un'altra. Dopo ho avuto un'altra, ma ho avuto un'altra, però non ho avuto un'altra cosa, per si farò in una cosa, non è traslato, ma quando sono orgoglioso con l'abai di una cosa. Con l'abai di teatro, mi ha avuto un'altra cosa che è meglio che il Tsunami, ma fredo, ma è sempre stato molto bene. che mi hanno il mio hobby di l'antilabrio. Mi sono arrivato 11 e mi sono 18 anni di edad. Contami, come va a llegare il progetto? Come è a llegare? Splicando in corto tempo, mi era meglio a presentare nella scuola dove mi ha stato buscato, ma è molto tempo, ma è un progetto lì, passa una tarda lì, e così via del progetto, ma è molto più importante, per esempio, lo stesso tempo, ma è molto più importante, ma non è più associato, questo è un problema. Come va a crescere nel progetto? Sì, sì. Come va a crescere nel progetto? Come va a crescere nel progetto? Come va a crescere? Come va a crescere nel progetto? è un'altra forma, io ho lato, e ho un'center che mi ha già trovato, non solo per la mia visione, ma per la mia visione. E io sono un'espaque, è un'espaque, io sono un'espaque, io sono sempre sicuro di me, io non ho capito, e io non ho capito tutto che sono qui, ma io ho capito di avere un'espaque? Sì, esatto. è un progetto di modello Sì, ho sempre detto che mi ero davvero di un modello, ma è un'opportunità grande per non prendere il rischio. Cosa hai pensato di un aspetto di un modello? Mi sembra di un modello, è un'opportunità di un modello. Ma io mi sembra bello. Allora mi dice che perciò un progetto. maniera già che vabbava explica, stanno dei proiecti, vabbè è buonero, non so, vabbè è buonero, arriva, però vabbè sta consciente che c'è un modello, c'è un porto mondiale, vabbè? Sì, mi sta tenendo una scena a conto, e er, mi sta mirando, e sei da me so, non sarebbe di battere che tu eris nè, eh. Di qua è un viaggio, un viaggio, un viaggio, è un viaggio, 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 e non so, con contento che stai nella sua stessa, che prendo il primo biazza che viste in un avione, che prende il mio uniforme, non so, non so, non so, non so, non so, ma a me con gli autori di territorio, non so, non so, non so, non so, non so, e il mio figlio è che ho! Ma cosa stai con contento, mi rimando, mi rimando un po' contento. Se stai con avione, ora andando a ballare, a me con contento, che prende il suo, che prende il primo biazza che viste in un avione, quindi non so, Non è un progetto che è molto importante per aver visto i guanti e la sua mano. È un progetto che è molto importante per aver visto un uniforme per il sole e rappresentare il nostro paese. Qualcuno non ha subito la pensa e lo tiene. Quindi, ho fatto molto bene, ho fatto un po' di confianza, ho fatto un po' di spazio, ho fatto che non ci sono sempre un po' di lavoro. Ora che mi guarda un altro ruolo, che mi guarda un po' di segurezza, che mi guarda un po' di segurezza, che mi guarda un po' di segurezza. e noi abbiamo bisogno di ascoltare, rispettare, se la classe non è comportata, la maniera deve essere, e non è così, basta dire che la cifra si è subito, noi abbiamo bisogno di riconoscere l'anno di prima o l'anno di ora. Abbiamo bisogno di avere un docente che ci si può essere per avere i loro, e ci sono molte cose che ci sono due. Abbiamo bisogno di avere un'opportunità di presentare ora, come chi è così, la possibilità di avere il carnaval, però non è un'opportunità di avere il carnaval, anche se ci sono e ci sono tutti i loro, perché è un'opportunità di avere un'opportunità di crescere, e la cresce di loco ecco età bata e mucca kata bata awora kita un mucca hoppi hoppi greit antumita kereko età un vorbilt pature otramuchanang kutina skola akinaan kibokkibis un mucca kutawakbo awora kita bisa omu mitambe ya hende no ke aceptami of nakas mitin problema of na skol mitin problema kumitambe poriega asi na leo manera egayko mitamira awora ki a yega kibokkibisplike kibokkibisi prome kutukos amin semmo ma buuskan uini di confianse kumita por a ehe ehe mimis koni explikele ii semmo ea nami consego so wakbongbo amigunan wakbonga ronodibo wakbonga semmo ta kredipa pushbo den loke seya bota asi ya do semmo pa na gheun bobo bota umion ene bobo mes non pa nan of pa ene mira sino bobo mes so si semmi kibisa ii probe kumikaba si menebisa la me gong baybobosonio like no laga nata nata srababu no laga komentario no laga poling no laga nata nata srababu di loga lokal kubokkibisi mas al final taabo talog rin no tayo sinanggut atin taabo no semmi kubokkibisi no tayo sinanggut atin taabo no laga nata srababu